Calce e struzzo non conforme, questo il clamoroso motivo che ha causato lo stop dei lavori nel cantiere del palazzetto dello sport del centico Lella all'Aquila. L'avveniristico impianto finanziato dal governo giapponese con 4,5 milioni di euro, donati nella gara di solidarietà nell'immediato post-terremoto del 6 aprile 2009. Una grani in più per un'opera pubblica nata sotto una cattiva stella, visto che va ancora risolto il problema della copertura economica. La donazione del giapponese copre infatti solo la metà dell'opera, alti 4 milioni di euro li deve trovare il comune dell'Aquila. A sollevare dubbi sulle caratteristiche della materia prima utilizzata, il genio civile, che a quanto trapela, si è appresa ad imporre varianti progettuali in corso d'opera. Solo con esse si potranno proseguire i lavori. Ma il tempo passa, le incognite restano e molto difficilmente il nastro di inaugurazione potrà essere tagliato, come ottimisticamente pronosticato, ad inizio 2017. L'altro grosso problema, come detto, è quello dei fondi mancanti. Due milioni di euro dei quattro necessari arriveranno, così almeno è stato garantito dal sindaco Massimo Cialente, da una delibera Cipe. Ma trovare gli altri due milioni sarà comunque un'impresa ardua, visto che il comune vacilla perché non ha i fondi nemmeno per chiudere il bilancio di previsione, se non interverrà il governo con un trasferimento straordinario di 18 milioni di euro. Grazie. Grazie.